I think I'm losing my mind Ti-ti-ti-ti-ti Cominciamo in questo nuovo... Oh, sì! Martire di sangue sbonto Bene, hai raggiunto il luogo giusto Yharnam è la sede di diffusione del sangue Yharnam! Bellissimo posto per andare a fare transfusioni di sangue Ma da dove può partire ch'ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam Prima però dovrai siglare un contratto Eh, diventeremo dei cacciatori Peccato che tutta la gente di Yharnam Ha fatto queste transfusioni di sangue Per curarsi da questa malattia Peccato sono andati tutti fuori di controllo Siamo impazziti Allora, chiamiamo il nostro apg Sesso... Eh Sesso lasciamo un maschio Tanto non serve un cazzo Wow, è giovane originello Facciamo... Eh... Allora, io l'ho partito con... Questa resistenza abilità Io ho fatto una iniziale con unico super asset E' un'idea che perché parte con 14 Fabbè, c'è due punti di differenza Però ci parto già con 15 di forza Eh... Quattrovi potrei anche partire espressione militare Perché comunque posso seguire C'è due punti che possono combi Cioè, è più... Eh, può espressione militare L'aspetto... 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 Io lascerai troppo... Anzi, ricordo soltanto... Ehm... Contro della pelle? Lo facciamo leggermente più scordato Tanto non si vedrà mai più Ehm... Dettaglio del volto Volti predefiniti Ci mettiamo... Ima... Brutti Questo è un po'... Colore barba Colore dei capelli Facciamo... Le barba Le barba incolta Anche il nostro... Lo sto più vicino Non lo vedremo mai Se non che Quando gli togliamo Le... Tenute Cappello Mica cappello Questa cazzo di guardia Bene Tutto firmato e regolare Scusate Guardate Ora diamo inizio alla trasfusione Non devi temere Qualunque cosa accada Forse ti sembrerà Su l'altro Io sono senza occhi Te lo ricordo male Sì Lo vai passo Ti dico che di Che sei Cappello Cioè Non è altro Che questa la regina Unica Da cui nasce tutto Ma qua abbiamo Cerco il sangue Smonto Per scendere La caccia E va bene Prima Cioè io Vai passo Quali di cose Anche perché In chi non arriviamo A morire La prima volta Contro il boss Non possiamo potenziarci Quindi farò Una sorta di Speed run Fino Alla prima Boss fight Stando un po' Attento In più In più In più In più In più In più Se no Però Allora Non mi ricordo Se Uccidendolo È possibile Aver qualcosa Un'audito Perché Noi dovremmo Assolutamente Morire Allora Ci metteremo Una vita Perché Uccidimi Grazie Ok Che cazzo Sono morto Grazie 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 Vabbè Lui si risveglia Nel sogno di cacciatore È il nostro Pautoma Scegliamo Le nostre armi Ovviamente Andiamo lì Mannaia Anche se Lascia Il cacciatore È ottima Potremmo utilizzare L'impugnatore A doppia mano Per fare Danno Ad area Ma Te lo fa anche 8 danni in più Ma noi andiamo In calma Andiamo a prendere La nostra Facciamo Il preset Di default Per acquistare Il cacciatore E La nostra Asce Dentellata Questa qui Non si è mancata Non si apre Allora Adesso L'obiettivo è Andare Tornare All'infermeria Con le nostre armi Ricoperte Il sogno del cacciatore Uccidere Il primo Lupo Questo lupo Ma che già È a fin di vita Successivamente Blindarla Fino alla boss fight Allora Armi Mannaia E Alla fine È un solo Slyke Quindi Queste sono le nostre anime Che sono soltanto 300 Vediamo Questa merda Muota Ci darà Ci darà I peccari di sangue Che sono solo Po 2 T3 Poi recuperiamo Delle Altre Fiale E poi Possiamo Perseguire Alco fuori Mi sa Che c'era Questi proiettili Che siamo già Bull Capacità massima Delle Fiale E dei proiettili Sono Intimenti Non mi ricordo Se si Potenzia Ma non Credo Allora Qua Se non ricordo male C'è un Oggettino Qua Altre Fiale Calculiamo Le monotone Che sono Qua dietro Grazie Troppi No Chiale Oh Che merda Grazie Le monotone Ci sargeranno Dopo Contro Il Chiarico Che è il Primo Boss Andiamo su Accendiamo La prima Lanterna Che è Oh Io Sì Quelle E Alto Ma che C'era una Mucca Quella Per forza Perfetto Adesso Vediamo Se riesco a trovare Il cacciatore Parliamo Con il bastardo Che la porta Adesso Desla Unica Praticamente Abitazione Che c'è Dovrebbe Essere Aperta Infatti Scusate Ok E Parliamo Con Benvenuto Nel Su Io Siamo Di sicuro Ora provi Confusione Cerca Di non Pensare Troppo All'accaduto Vai La fuori E abbatti Qualche Belva È per il Tuo Bene Sai È questo Ciò Che fanno I cacciatori Ti ci Abituerai Allora Questa Qua sarebbe L'antica Officina Però Praticamente Rivista Nel Sogno Del Caccelore Yarmann Non era altro Che Questo Oddio È Nel Lui Lui Non è altro Che Un Un Chi Lo chiamo Un Reputatore È Un Cazzo È Sicuramente Un Guerriero Ed è Un Inventore Che Crea Tutte Le armi Per i Vali Cacciatori Ed è Lui Che A capo È Man Centrale Dove Intornare E Lui Cerca Questi Cacciatori Questi Cacciatori L'officina Di cacciatori Queste qua Che È Andata Distrutta Nella Realità Durante La Guerra Di Yarmann Che è Presente C'è Ecco Trofeo Ecco Ecco Allora Questa L'uomo Però Vabbè Allora Abbiamo Cioppoli Che Servono Da un Certo Punto Eh L'ho Detto Cerco Di speedrun Arma Un Po Per dire Qua Allora Allora Considerando Che Che va Qua Qua Apriamo La La prima Sciorpia Che Vorrò Ma Su La Lampada Poi Abbiamo Sto Pezzo Di Merda Grazie Vieni Vieni Qua Ma Ha fatto Un po' Di Danni Ok Nessun Problema Morto Dici Troppa Fiale Devo Ucciso Fra Niente Mi sa Mi ricordo Mi ricordo Che c'erano Negli oggetti Qua Ma Vabbè Torno Su Mi Torno Su Un paio Di Palle Perché Tanto Quando A fine Te l'opera Mi Ritorna Qui Poi Io Se non Ricordo Male C'è Mi Ricordavo Che c'era Qualcuno Mi Ricordavo Male Sì Vediamo Da di sopra Quindi Non Allora Le porte Con Dei lanterne Al di fuori Accendere Porte Finestre Così dovrebbero essere NPC Non Tutti L'unico Utile È quello Di Iaman Centrale Che ha La Quest Tra l'altro Eh Devi morire Però Ma qua Sono veramente In Tantino Dio Dio Già Proiettili Ma Quello è il massimo Qua c'è Una Scarba Grazie Un Tramamento Di Pietra Di Sangue Che ci dà Echi Del Sangue Echi Del Sangue Sono le anime Tipo Quindi Sono Tutto ciò che Può Farci Aumentare Il livello Il problema Che vorrei Spinter Rannarla Un po' Ma non si Riesce Ok Eh Allora Io Sono un Coglione Eh Già Se io Se io vado Di là Mi spara Però Dann Si Si Buone I I Oh, no! Oh, no! Oh, no! Grazie Eh ma quando uno Mi dà Fuori Grazie Qua dietro c'è un bestione Che però vabbè Ok Non posso spegnerle Con 2000 anni mi buttate nel rudo Ma veramente nel rudo Qua abbiamo i corbeti Rompicoglioni Rompicoglioni va Certo Vabbè Ci torniamo dopo Qua non ci possiamo andare C'è un po' di C'è un po' di C'è un po' di C'è un po' di Allà Vieni qua Grazie Un po' mi Mi piange un po' il cuore Il semplice fatto che Noi ci stiamo recuperando Che tocca Come fate Corrarmi Dio Morto Morto Perché io che sono 58 anni Cioè Lecchi di sangue Oggi praticamente 3000 Lecchi di sangue Siamo già A Vai Vai corri 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 Grazie per la visione! Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ok Guardalo, guardalo Non credo di riuscire a steccarlo subito Se la faccio Mi favo la guerra da solo però Vai Non mi dia Ho inciso il chiarico belva Così D'emblè Vabbè spettacolo Spettacolo Non ci credo Cioè Incredibilmente Incredibile Veramente incredibile No Non ci credo Mi sembra Veramente assurdo Cioè di solito Allora vedi qua E muori Almeno l'80% Fa così Infatti adesso che sono tornato qui Posso Parlare all'autonomo Perché? Salve Buon cacciatore Sono un'automa Nobile cacciatore E caccerai Bellarri Adesso posso Parlare con lei Molto bene Lascia E aumentare ovviamente La nostra forza Di un pipe Se io posso già arrivare A fare Ehm Adesso Addio Buon cacciatore Che tu possa C'è tant'uno Che Cos'è Tutti Tutti Suona La campana Le richiamo Per ottenere Collaborazioni Di cacciatori Provenienti Da tre mondi Però Giocando offline e qua è un capparecchetto che faccio ancora ecco io non posso capire che faccio così ovviamente qua mi ha messito il calderone possiamo comprare le pesce di sangue Acre che è un diversivo e cappareccheggianti piccoli per aiutare altri cacciatori in altri mondi che faccio sempre una storia per online questo servono il sangue per potenziarlo io userò al 80% la palce dentata per ottenere altri oggetti fiali proiettili di antiche filmate quindi adesso io torno indietro torno a Yamaha centrale perché mi faccio il giro tranquillo mi faccio qualche punto esperienza devo recuperare gli oggetti che sono quelli dei led mi trovo il gigante di merda dietro la porta devo recuperarli e poi continuiamo già abbiamo battuto il chiarico che è quella è già da trovare questa shortcut anche questo qua è la famosa questa che dicevo le pc noi siamo qua da ascoltare questa città è maledetta non so perchè tu sei qui ecco la verità se noi li portiamo un cagnon lui ci da un giac... mi sta lanciando un po' seccario un po' seccario un po' seccario mi faccio la strada cunga per così farmi un po' di bambini un po' seccario 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 eeeh abbiamo proiettini che fanno il nostro deposito un po' di signora grazie oh se sti molto prima a bambere il Gecko Velva subito e soprattutto sono riuscito a equipaggiarmi le Molotov e sti subito perchè che bastardelli qua cosa che non è andata che c'è che che un giallo che 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 Grazie a tutti. Nooo, forza! Ok... Un posto perché... Piaggio... Quindi qua non credo aver lasciato qualcosa... Il prossimo è Fanta Cascuano... Il prossimo è Fanta Cascuano... Un posto! Forza! Un posto! E' morto sempre! Allora... Che recuperare? Questo... Non c'è nulla da... 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 Un posto! Un posto! Un posto! Un posto! Porchetti di merda! Un posto! Un posto! Qui... Un posto! 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 E' un po' di più Perfetto, un'altra piale. Puoi bastare che sarebbe di sopra? Non è che rimane lì? Si spungono dall'altra parte così. E' veramente... Cazzo. Questa città è finita. Ok, poi. Adesso. Qua. Abbiamo un'altra shortcut. Perfetto. Perfetto. Ci siamo fatti adesso. 3.400 HP di sangue. Eh no. Un'ombra pochi. Se ci sia... Tipo, a gradui. E' un'altra. Una volta, ragazzi. Non voglio più o due. Ok. Un'ombra pochi. Un'ombra pochi. Qua sa, altra! Un'ombra pochi. Un'ombra pochi. Un'ombra pochi. Di quel che corri nella Ну'è un'ombra pochina. Qua Goddi? Zidola! E' un'ombra pochi. le monete lucidanti, le monete lucidanti non so cosa facciano effettivamente, voi dicevano che potrebbero servire ai trovati da via probabilmente un port, cioè infatti una traccia minosa fino ad arrivare a una delle antenne cese allora qua il leccanismo è bloccato se non andiamo di qua poniamo lì sopra il pivo però è incastrato non 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 ma è il fastidio di questo verso dai qui non 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 In giro per Rai Che gli occhi divengano la tua forza Lasciami avvicinare Io aumenterei da fo Una di Però va da 114 Ah Cioè alla fine Mi scala solo di un punto Però io aumenterei Fare un punto di resistenza E posso concatenare più attacchi No Allora Cosa è sparito Ma per sbaglio dopo il film Ma per sbaglio Non l'ho fatto apposta Vabbè questo è uno strumento che recuperiamo dopo E va bene così Niente io Vado 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 Io qua Io mi ricordo che c'erano degli oggetti Quindi se non può Allora qui La battaglia finale Vabbè Si sa Vabbè Vado a farmi Come Vado a farmi Chimitarà Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 provo a uccidere i due troi qua mi agri a favore vieni piuttosto giù vieni 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 ce Fiala No, puoi fiala Così ho rifillato Adesso Che famversi Fate che spawn non è nulla Però, però ci vuole Un'ottima rigua Guardo Bisogna stare BOOM Molto attenti Bello La nostra amica dov'è? È sempre lì che prega Ben tornato Che cosa desideri? Ma Molto bella Lascia Allora Serve Almeno Ah Così Quello d'un punto di vita Sarebbe Sarebbe Spendo due livelli Per Un cacciatore Che tu possa trovare Va bene Io però Per inventare Posso avere Tre No Una Questo Un altro Ecco Una rocciata di sangue freddo Più Sette Rocciata di sangue freddo Da 50 Quindi sono 1.800 Non vale Un cazzo Però forse un livello Ben tornato Che cosa Uno Che lo Lascia Mio Un cazzo Un cazzo Non è che Non mi sono Allora Andare Da Un minuto 132 E Chi Mi 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 E E Io Qua posso No Non Manca Uno Però posso Parapistola Vabbè Per 50 ci sta Piuttosto Piuttosto Ma questo è un'attività di intuizione I miei oggetti Io mi compro Ma 5 molto Ma così è? Però vedete C'è la sigla anche Io dovrei comprare tutti Corro controllo Beh va passa che farmi un po' Devo farne 12.000 2.500 Non faccio con niente Facciamo una cosa Vabbè vabbè Andiamo a centrale Alla prossima Eh beh, ehm, posso meglio, quindi prendo la... L'altra... C'è, non si resta, 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 non si resta. E' sto qua, va bene. Oh. Fiale, 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 tante fiale Eeeh guarda qua quanta roba Troppa Questa città è finita Ma è buono Fiii Fata qua Fata qua Questa città è finita Questa città è finita C'è sono morto adesso per la vera moglie Prendi pezzi di merda Prendi cazzo di pezzi di merda Ingestibile Per di più ingestibile la cosa C'è la roccia intorno Sparo altre anime Questa most dona Continua Alla Sì, non lo so, non lo so. Scusate! il mio mono mai dico mai affrontarli insieme mai non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che lusso. Che gran lusso. Merdaccia. No, niente, scusa. C'è una cazzata. 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 Io l'ho già finito, eh, boh, boh, però... Mamma mia, non sei cattivo. Padre di Dio. Bestia dappertutto. Bestia dappertutto. Presto o tardi, anche tu diventerai... Presto o tardi, anche tu diventerai come loro. Un umano, un cacciatore umano, che quando uccidi, arrivi a metà vita, diventa anche un... Porca puttana. Ecco, eccalà. Uff, io prego. Questa madonna, quanto cazzo io tolto. Porca puttana. L'odore è quello... Dolce sangue... E come musica... Grazie! Grazie! Faglia! Troppo fiero per dimostrare il tuo volto, eh? È stata comunque una caccia interessante! Il tuo volto... Il mio volto... Va bene... Devo riuscire a capire la moveset! Il mio volto... 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 You won't. You won't. I think we'll go out. Oh, 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 oh. oh L'ho fatta Se l'ho fatta ucciderlo Oddio Allora torno al sogno e torno Infine mi cerca di venire di tirar pure quei ciumi che l'ho muro e dimostra qua Bentornato, che cosa? Beh, andrò Votoci la forza Dempis Ko Domba di Od skiing OO Robert Cameron Oddio 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 Dicca, ho pochissimi proiettili. Questi cazzi. Allora, qua, non so che sulle due primi morte ho recuperato altri di sangue. Non... Allora, l'abitazione dove c'è padre Castrone è tanta roba. Perché tutto il mondo non vedi mai dove vai? Ma prima di aprire la porta... Guardiamo qua, se non c'è dell'alto, ma non credo. Portone per la chiave. C'è niente? Sì, c'è un bar. Bar, 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 bar. Vai. Allora, qua c'è dentro alla cattedrale. Qua c'è un foglio. Il regno di Park & World c'è da ogni giorno di tempo. Ed è allontana da noi nostri perduti signori. Un vero peccato. Pensa certo. Mi tremendo in modo incontrollabile. Attenzione. Qua... Abbiamo qualcosa da forza fondamentale. Vediamo. Apparezzare l'officina per i giorni di sangue. Questo qua adesso, nei momenti in cui non torna... ... 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 vai ok E su questo qua Ce la ritroviamo nella cappella di Cathedral World Aspetto Posso prevenziarlo Un altro 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 No, 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 no. Ma che cazzo ti siedi? No. Sì, puoi suonare quello che vuoi, tanto... Temo di non potermi... Ma prima che io... Al culo. A me non serve. La mia malattia era incurabile. Il loro strano sangue mi ha... Ho avuto fortuna. Posso morire. Buono. Molto buono. Eh... No. Posso. Eccolo qua. Tornare. La luna e se le belve incombono, come ho un sacro... Dove hai... Posso mettere qua, da presto. Scusami, quello che ho già trovato... Questo. E' un po' di posto. Ah, è quello qua, è vero. La malattia con... Le armi. Non ne ho perso mai quello che ho perso mai. Io posso anche... Dare la... Mia malattia. Assolutamente. Io non volevo provare anche... Se la lancia, eh. Uo, arroccato la volta. Bella. Preferisco lei, però. Ovviamente. Non vengono oggetti, no? Beh, io... Cosa posso vendere? Cioè, posso vendere... C'è un... C'è un... Ciotto di... Che non mi servono. Basta. Oh, è vero che c'è un... Sei l'uja da... Da usare, eh? Uso multipli. Eh, sul 2100 posso... Posso potenziarmi. Mi sono che cos... Molto bene. Lascia... Un livello. Terro... 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 Niente. Toco, dai. Stacchiamo... Stacchiamo qua. Uo, non ho idea. Sì, sì, sì. Non credi che io sia il disastro che si è abbattuto sugli... La vostra... Non ti avvicinare! Tu, come? Ma stai calma. Ma c'è anche qua. Qui di là, però... C'è una strada che non posso andare. Questa cosa devo andarci dopo. Bene. Cosa dobbiamo. Questa si apre dopo. Eh, sì, vabbè, dai. Eccoli, eccoli. Loro sono molto bastardi. Loro sono molto bastardi. Loro sono assai bastardi. Che! Loro! Loro! Grazie, grazie. ah grande c'è un team che sta devo anche corrare qua oh 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 è vero che ti chiamo già da un vostro strato. Però un verico giù ne fuori io. Grazie a tutti. questo è questo che non funziona questo funziona è il primo risorso mi copia molto bene mi dice qualcuno con cui parlare tu sei un cacciatore di belve vero lo sapevo anche i dati chiedo scusa protetto di mastro logarios allora cosa mi dici perchè non collaborare o prendi questo la caccia alle belve è una pratica sacra potremmo trovare parec forza per me Bergenwerth è la tomba degli dèi che tempo fa da questo oggi inoltre non è chiaro ma solo loro come sarei io soverò e che i cons se sei in c... addio dunque allora adesso direi di stoppare qua vado all'interno è più vicino che la cattedrale qua ho già fatto tutto anzi abbiamo aperto anche qua che ci porta giù e non so non mi ricordo più non mi ricordo mi sa che qua si va è un pezzo di merda qua si va nelle come si chiamano non catacombe si più o meno catacombe di sto distacchese di merda e mi sa che c'è un post un post di merda e si moltiplicano quindi là c'è un cordo intanto tu abito da cacciatore o anti-cacciatore ma mi forno oh cilino però mi dà addirittura vabbè più danni oh vabbè vabbè alla fondo l'arcane il fulmine qua vabbè al momento quello che ho addosso è una migliore ah è vero ero dimenticato di loro ok che bello quindi amici miei non chiudiamo ancora l'arcane torno a cacciatore e ci vediamo un momento nel pomeriggio ciao ragazzi ciao ciao